ciao a tutti e bentornati su occhi alla penna oggi un altro video spesa con risparmio non ho trovato tanto nella sezione delle offerte perché siamo andati tardi però siamo riusciti a racimolare qualcosa a prezzi veramente scandalosi vi mostro subito questi meravigliosi tulipani in sottofondo c'è lana che piange perché ho chiuso la porta e le vuole andare fuori questi tulipani sono costati 75 centesimi invece di 3 ho preso anche questi bellissimi anche questi perfetti ancora da sbocciare 75 centesimi invece di 3 pound poi qui arriviamo ai prezzi veramente scandalosi abbiamo preso una busta di lattuga iceberg a 0 8 centesimi come vedete è ancora fresca e perfetta poi abbiamo preso questa selezione di carote cavolo cipolla e germogli da fare in padella per 10 centesimi poi abbiamo preso questo pane molti molti cereali fan in cassetta già tagliato al costo di 14 centesimi e questo si può benissimo congelare congeleremo anche questi che sono dei bagels che abbiamo pagato 0 18 centesimi invece di un pound e sessanta poi abbiamo preso dei ravanelli i miei ancora sono piuttosto piccoli però spero cresceranno e questi li abbiamo pagati 4 centesimi e come potete vedere sono ancora perfetti nonostante la scadenza sia oggi e poi abbiamo preso due buste di carote queste sono carote organiche infatti hanno ancora la terra e anche il il ciuffettino e queste sono venute 0 15 centesimi ciascuna ho fatto il conto ho guardato lo scontrino per tutta questa roba compresi due mazzi di fiori intatti ho speso 2 pound e 34 non ho il totale della somma senza la riduzione ma comunque soli fiori sarebbero venuti 6 euro 6 pound scusate e quindi un risparmio super anche per questo video è tutto io spero di avervi tenuto compagnia in questi tre minuti e noi ci vediamo alla prossima ciao